Versione lentissima del Gatto e la Volpe con l'accompagnamento semplice. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se non vuoi che ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari. Che si fanno in quattro per te.